Grazie a tutti, buonasera a tutti. So, just recently we had opportunity to have lots of satsang every day for eight days, we had this springtime retreat, which was a wonderful event, full of grace, blessing, clarity, upliftment, all those good things which are so important on the spiritual path. So, recently we had a retreat of eight days in which each day there was a satsang. So, this retreat is a great opportunity in which we received so much grace, benedizioni, innalzamento di coscienza, tutte quelle buone cose che sono necessarie sul cammino spirituale. So, I still have the effort, I still feel the effect of this retreat on me, this wave of grace which has overtaken, still there. I guess anybody who has been attending the retreat still feels the effect of it. So, here we are now to have another satsang. satsang is always beautiful, it's always inspiring, it's good. So, good to have satsang as much as possible. So, as I was saying, this eight days springtime retreat has been a really beautiful time. everybody who has had the good luck to attend the whole period has gone through quite a lot in his, her inner life. per cui questo ritiro primaverile è stata veramente un'ottima occasione in cui chiunque abbia avuto la fortuna di poter partecipare a tutti gli otto giorni è andato profondamente nella sua vita spirituale e ha sperimentato tante cose. On a retreat, we may experience many things. It's the inner side, which comes from the many hours of meditation that we dedicate to during the day. and it has to do also with the interaction that happens between the satsang is present. It has to do with the love, emotion, bhakti that comes from the much singing that we do, the retreats. And singing is a great power for touching deeply our soul. Quindi, durante il ritiro tante cose molto particolari avvengono. C'è questo contatto interiore che viene dalle tante ore di meditazione che vengono dedicate durante un ritiro alla meditazione. Poi viene anche, il beneficio viene anche dall'interazione che avviene tra i vari satsangi presenti. Dalle emozioni, la devozione che va, i tanti canti che facciamo durante di ci, i ritiri generano dentro di noi. E dalla, ovviamente, l'infinita grazia che l'Essere Supremo, il Satguru Supremo, invia sui partecipanti. And moreover, also, there is this great amount of grace, Supreme Satguru, showers on all the attendants. So, if you've never attended the retreat like this, take advantage, come and attend. You'll be amazed and you'll be grateful for whatever may happen to you, whatever you may experience. It's a great experience on the spiritual path. So, anyhow, for this specific satsang which I have now, I have chosen a bhajan by Santa Jaip Singh, my beloved Satsangi or Babaji. This is very, let's say, humble. It's a bhajan in which there is a great amount of humility from Satsangi's part. Questo è un bhajan in cui c'è veramente tantissima vita da parte di Satsangi. He was always very humble, although he was also very, very keenly, I would say. He was very powerful. But that's how it is. When you are very powerful spiritually, then you become very humble. Because you know that all the spirituality, all this grace doesn't come from you. it comes from, it's a gift, from beloved Sadhguru, our beloved Sadhguru. So, although we might be, you know, very self-confident, we will also be very, very humble. So, in this bhajan, Satsangi, in all the phrases, in all the phrases, a great humility, I would say. Even though he was so competent, so padrone of the situation, so powerful, so powerful, so powerful, he was still very humble. And this is the characteristic, this is how they must go. If we are spiritually elevating, then we know that all this elevating spiritual life comes from it. di lui, per cui naturalmente ci sentiremo umili. Il maestro che fa, diceva, un albero che carico di frutti si piega verso il basso, un albero che dà solo fiori, ma non frutti, i suoi rami vanno tutti in alto. Con questo volevo dire che chi ha tanti doni sarà umile, si piega verso gli altri. So Master Kipal used to say that a tree laden with fruits bend down, the branches would go down towards the ground, while those trees that only give flowers or maybe don't even give flowers, the branches they raise up. And by this he meant, he meant that those people who are, you know, who have a lot of spiritual grace and spiritual gifts within themselves, spiritual fruits, they are very humble and they bow down towards everybody, especially towards their Master, of course. So you will see, as I translate this Bhajan, and those who know this Bhajan, they already know what it means. Anyhow, as I translate it, we will see that every sentence is saturated with humility. Quindi, mentre lo tradurrò, vedrete che ogni frase di questo Bhajan è carica di profonda umiltà e riconoscenza verso il proprio Maestro. Per cui ascoltatelo con tutta la vostra attenzione, se lo sapete cantare, cantatelo. Se no, ascoltatelo con tutta la vostra attenzione e cercate di assorbire in voi le onde di melodia, di armonia che questo Bhajan emana. So, you please try to listen to it with all of your attention. Try to be still, be peaceful and absorbs the waves of melody, harmony that Bhajan radiates. I try to accompany myself with a tempura. Now, I don't know with this microphone, this webcam microphone is going to perform well. I've never done it with this specific one. So, I try, let's see how it works. I hope it's not going to be too bad. So, it's an experiment. If it works well, if it doesn't, it won't be done again. So, I try, let's see how it works. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. So, So, humility, Grazie a tutti. 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 I have a tutti. e a tutti. , e a tutti. luminosi, , , per, 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 sono persone, , 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 ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, 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 ,,,,, ,,,,, ,,,,,,,, riconoscerlo,,,,,,,,,,...,,,,,,,...,, prostrarsi alla sua porta e abbandonare in qualche modo il nostro ego, il nostro egoismo, la nostra arroganza, richiedere umilmente la liberazione. Questo è il modo in cui, la modalità in cui questa unione con l'amato può avvenire. Quindi Sanji ha fatto tutto questo, perché è stato questo, perché è stato per esperienza in questo modo. Questo è quello che ha fatto quando Master Kippar è stato fatto per visitare lui. you know there are some people who develop some kind of you know CD or they call them in India some kind of power and they can you know play tricks on others or perform some kind of magic on others and Sanjay used to say used to relate the story of when Gobind Singh, Guru Gobind Singh went to see Banda Bahadur in Maharashtra you know where Gobind Singh at some point they had to flee from Punjab because of the war that was happening there to save his life he you know very with lots of difficulties eventually he reached Maharashtra which is the area where Bombay is Mumbai he is now that's what it's called and there eventually he met this Banda Bahadur who was kind of a sattu meditator strong meditator and this Banda Bahadur had this power of you know let people fall down on the ground just by looking at them kind of hypnosis you know that's what it is so he tried to perform this kind of hypnosis this kind of act on Guru Gobind Singh but Guru Gobind Singh was so much above him that instead of making Guru Gobind Singh fall down at his feet eventually he Banda Bahadur fell at Guru Gobind Singh's feet so Sanjay used to say I also had this this developed this developed this ability so I did it sometimes with people so when Master Kapal came the first time to see me I wanted to test him and see if he was what he was supposed to be this great said Guru so I thought of you know performing this action on him of kind of making fall down on the ground but very realized that he was so much more powerful than me that I fell at his feet so this was really an event in his life that when he met Master Kapal he realized how powerful Master Kapal was and consequently it was he falling at the feet of Master Kapal. So Sanjay raccontava questa storia perché questo è ciò che veramente accade nella sua vita quando incontrò il maestro che parla. Sanjay aveva sviluppato questa capacità che è un po' una sorta di ipnosi in sostanza in cui se voleva quando voleva poteva guardando una persona farla cadere per terra oppure toccandola e farli un po' perdere diciamo i sensi e la e farli cadere in terra e e Sanjay diceva che questo potere era qualcosa che aveva anche Banda Bahadur che era un discepolo di Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh a un certo punto della sua vita a casa della guerra che c'era in Punjab cercò di salvare la sua vita per cui fuggì dal Punjab e piano piano attraverso tante difficoltà arrivò nel Maharashtra che è la zona dove c'è Mumbai quindi lì dopo un po' incontrò un un grande meditatore che si chiamava Banda Bahadur era una sorta di sadhu quando lo incontrò Banda Bahadur il quale pure come Sanjay aveva questa capacità di di ipnotizzare la gente e farla cadere se voleva per terra allora pensò di operare questa sua questa sua capacità diciamo su Guru Gobind Singh per vedere un po' che potere aveva questo maestro quindi provo a farlo ma accade invece che essendo Guru Gobind Singh molto più potente di lui fu Banda Bahadur a cadere ai piedi di Guru Gobind Singh diventò suo discepolo poi che portò avanti anche il suo lavoro in seguito Sanjay aveva pure questa capacità per cui quando incontrò il maestro Kirpal pensò di metterlo alla prova e cercò di operare questa sua capacità di lui ma il fatto è che il maestro Kirpal era così tanto di sopra di lui che fu Sanjay a cadere ai suoi piedi e a riconoscerlo nella sua grandezza quindi questo è ciò che accade realmente a Sanjay quando incontrò il maestro Kirpal cade veramente ai suoi piedi per cui questa è una cosa che accade quando incontrò la permissima la seconda volta il maestro Kirpal e sono certo che accade tante altre volte nella sua vita nelle occasioni in cui si trovò a passare tempo con il maestro Kirpal nella compagnia del maestro Kirpal Understanding us as orphans attach us to your feet do not involve us in the chaurasi whatever has happened with us in the past has happened Considerandoci i tuoi orfani attaccaci ai tuoi piedi non coinvolgersi nel ciclo della chaurasi quello che è accaduto con noi nel passato è accaduto quello che è accaduto con noi è passato è accaduto so here he is telling we are orphans we have come to your door so please attach us to your feet whatever has happened with us in the past has happened please do not involve us again into this bill of transmigration per cui in sostanza sta dicendo noi siamo orfani siamo venuti ai tuoi piedi attaccaci ai tuoi piedi non coinvolgersi ancora nel ciclo della chaurasi o di nascite e morti quel che è accaduto in passato è accaduto con pazienza so here again what is he telling in a few words in a nutshell and in essence what is he saying we are orphans in the sense that we are so far away from our real supreme father that is our supreme sadguru anami he nameless the one with that condition the state the realm which is beyond duality which is beyond time and space which is beyond manifestation creation we are so far away from that supreme being so we are orphans this kind of loss for us per cui siamo orfani siamo così lontani da quel supremo sadguru quella realtà al di là di ogni realtà al di là della dualità tempo, spazio, casualità per cui siamo in sostanza orfani abbiamo perso contatto con il nostro padre supremo come ritrovarlo? attacca certo i piedi dice so how to find it? he says attach us to your feet means let us have let us develop this incredible love and devotion for you that we want always to be at your feet per cui vuol dire in sostanza facci sentire sviluppare questo immenso amore e devozione per te per cui di conseguenza vogliamo essere sempre ai tuoi piedi non coinvolgerci ancora col ciclo della transmigrazione facile stare lì con te sempre so do not let us be again and again involved in this cycle of cycle of transmigration of birth and death eventually once we leave this world take us into complete union with you and never separate us from you again in sostanza quando lasciamo questo mondo questo corpo questa volta fa che non dobbiamo mai più separarci da te che ci si immerga in te e si rimanga sempre lì this play of coming and going coming and going so many forms fed up with it we have enough of it we would like to go back to you and stay always with you merge with you and be one with you that's what we want per cui quello che vogliamo in sostanza è una volta lasciato questo corpo questa volta facci immergere completamente in te e non separarci mai più da te vogliamo essere sempre uniti da te uno con te that's what you say here that's what you want what has happened in the past has happened it's okay we don't care we couldn't do it any different couldn't be any different we don't want to keep rooming and you know keep pondering over what has happened what has happened has happened it's okay couldn't be any different now let's keep going on and let's keep doing our spiritual practices so that eventually when we leave this world when we leave this body we imagine him and we stay there and never get out of it per cui quello che è accaduto in passato è accaduto pazienza ora cerchiamo di vivere una vita tale per cui una volta lasciato questo mondo questo corpo ci potremo immergere con lui diventare uno con lui e non uscire più da quella condizione di suprema beatitudine we have given up all support except you oh beloved dwell in our hearts folding our hands we made this request abbiamo abbandonato ogni sostegno eccetto oh amato dimora nel nostro cuore aggiungendo le mani facciamo questa richiesta you know who is the person who may have this kind of sentiments so to say this kind of feelings he is he is he is he is a devote he was a devote of maskepal maskepal was his god his chosen god and he was very devoted to him per cui quali sono i sentimenti che spingono una persona a scrivere queste cose a dire queste cose è un sentimento di grande amore di grande devozione questo è ciò che si gira lui era un bacta un devoto del suo dio prescelto che era che lo parla per cui amare giunta ti facciamo questa richiesta dice dimora nel nostro cuore dwell in our heart we fold the hands we made this request please dwell in our heart that's what we want why we came to you because we want that you take over in us and just dwell in us e per questo siamo venuti da te perché vogliamo siamo stufi di noi stessi veramente questa nostra piccola personalità ci è venuta a noia vogliamo così tanto che tu dimori nel nostro essere nel nostro cuore e sia tu e non più io great I fully agree with Babaji he was the great devotee who recognized as God his supreme master Karpala and what he what he always wanted what he was always requesting was was his goal that was melting in him and become one with him or that he will come and live in his heart and take over and be no more he but him quindi sono d'accordo con questo Babaji il quale in sostanza sta dicendo guarda di questa mia personalità limitata di questo mio ego di questo mio veramente abbastanza vorrei tanto che tu venga a dimorare nel mio cuore e non sia più io ma tu nella tua grandezza a completarmi a riempire me so I would like no more to be me but you that dwell in me and make me complete full of you no more me but you that's what all the great seekers of truth whether they have the intellectual or Gyan attitude wanting knowledge or Bhaktas or whatever either through knowledge or through devotion or through service to humanity this is what we are all looking for getting rid of our small personality and become one with the supreme being isn't that so I guess any reasonable person would agree with this people are looking for truth whichever way they do it they're looking for this merging with the supreme forgetting this I questo è ciò che tutti stiamo cercando in qualsiasi modo stiamo inclini a farlo stiamo cercando questo uscire da noi stessi per diventare lui so eventually he says again I am a sinner he wasn't a sinner at all but you know so humble I am a sinner what is this rest of humanity if he was a sinner what is humanity it's in a catastrophe complete if he was a sinner ma lui non era semplicemente umile per cui dice sono pieno di brutte qualità non è vero non era pieno di brutte qualità so then he says I'm full of bad qualities not true he didn't have these bad qualities in him poor Ajaib is your slave without Kirpal there is no shelter il povero Ajaib è tuo schiavo senza Kirpal non c'è rifugio non c'è riparo so beautiful Ajaib Singh has given us a lesson of humility of you know how we should relate to our God to our sub guru with a lot of humility always understanding that look this poor man has no good quality whatsoever I'm a sinner I keep making mistakes now you know sinner non sinner take it the way you like the thing is that we human beings you know we keep making mistakes one after the other because of our limits because we would like to be in a certain way but we are not able to be such we would like to do certain things but you know we do them sometimes and we stop doing them so we keep falling back and back again into a miserable condition per cui vedete noi poveri esseri umani veramente siamo molto limitati continuiamo a fare sempre gli stessi errori ci diamo propositi ci facciamo propositi di vivere in un certo modo di seguirla via in un certo modo di fare la nostra meditazione giornalmente ma poi ma poi ma poi la nostra mente semplicemente ci ci devia le nostre tendenze ancora riemergono le nostre abitudini i nostri vizi la nostra miseria in sostanza che ci porta ancora a vivere con la situazione di con la situazione paludosa semplicemente in cui ci si muove così male sempre impantanati nella nostra miseria so you know we find ourselves leaving our swampy condition because because you know we forget our purpose our goal and we fall back again into our misery so we don't stick to the promises that we make to ourselves first of all to ourselves of you know to live a certain lifestyle to do one spiritual practice regular regularity every day but we you know we do it for some time and we fall back again into this miserable condition in which in which you know we are like in a swamp moving with such a difficulty so heavy you know the beauty of attending a retreat is that eventually because of the program you have to stick to the program if you go to a retreat of course then because of you know the cycle meeting after the meeting we get into it we get into it and eventually we develop or go back again to the good habit of intensely doing meditation and getting all the benefit that naturally counts vedete andare ai titi è una cosa fantastica perché lì dobbiamo seguire il programma quindi automaticamente dopo un po' di giorni ci troviamo a essere tornati a quello lo stile di vita che vorremmo magari sempre avere da sanzanghi in cui ci sediamo regolarmente a meditare intensamente o incontro dopo incontro partecipando ci troviamo a vivere ancora con la condizione che vorremmo sempre vivere ma che nella quotidianità non riusciamo a vivere so at the end of the retreat we promised ourselves my God I would like to keep it now and keep going like this more or less like this and keep this wave of grace that is with me now but I don't know how many after a retreat are able you know to keep up and keep doing their spiritual practice this kind of enthusiasm and consequently this kind of benefit quindi durante un ritiro entriamo di nuovo nella nuova abitudine di fare tanta meditazione di conseguenza riceviamo questo beneficio enorme questa leggerezza questa espansione che viene quando facciamo la pratica intensamente e allora vorremmo magari continuare poi continuare a fare la nostra pratica in quel modo per mantenere quello stato di grazia però purtroppo non so quanti sono in grado di mantenere e per quanto allungo questa attitudine so please try your best try to live a life full of no intense full of very good things don't let your life be miserable try to live a life which is meaningful which is intense an inspired life an intuitive life life to the fullness quindi cercate di vivere una vita in pieno piena di piena di buona volontà piena di intuizioni piena di ispirazione piena di entusiasmo non vi arrendete a vivere una vita miserabile in cui vi trascinate in qualche modo giorno dopo giorno quindi non dovrebbe essere così la vita è un grande dono e dovremmo cercare di vivercela con tutto il nostro potenziale vi arrivi the end of this satsang per cui siamo alla fine del satsang ringrazio i miei amati Sadguru Savank e Parajai per avermi ispirato a dire qualsiasi cosa abbia detto ho detto spero che sia stata interessante per voi ispirante incoraggiante I hope it has been inspiring for you it has been encouraging helping you so keep it keep it try to keep the grace try to keep whatever good may have come per cui mantenete tutto questo cercare di mantenere la grazia e qualsiasi cosa di buono sia accaduto so now I was sing a bit the mantra and then I guide you a bit in meditation please try to meditate some keep the grace keep the blessing sat naan sat naan sat naan sat naan radasomi 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 siri wahe guru siri wahe guru siri wahe guru siri wahe guru an amy Anami 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 Satinam 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 Radha soami Radha soami Radha soami Radha soami Siri Vaeguru Siri Vaeguru Siri Vaeguru Si Riva e Guru Anami 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 So by trying our best to come into a state of complete giving up And complete surrender Complete Complete Focus Complete Peace Let's try to fully withdraw from all outside And direct our attention and dissent Per cui cercando di Entrare in questo stato di Completo abbandono Completo Completo rilassamento Uno stato di completa pace E di completa focalizzazione Dell'attenzione Cerchiamo di ritirarci Dall'esterno Dal corpo E focalizzarci Interiormente So we want to keep Steadily looking In the center In the middle What we see In front of us Per cui vogliamo focalizzare Completamente la nostra Attenzione Nel centro Di ciò che vediamo Davanti a noi Now when we close our eyes Our attention goes Where? In the middle of our Eyebrows In the middle of our forehead Ora dove va la nostra attenzione Quando noi chiudiamo i nostri occhi Naturalmente va nel mezzo Delle nostre sopracciglia Nel mezzo della nostra front So it is here That we have to Steadily Persistently Look in the center Per cui è qui Che dobbiamo guardare In modo persistente Continuo Nel centro And we have to become So absorbed So busy looking That we forget Everything And dobbiamo diventare Così assorti Così indaffarati A guardare Impegnati a guardare Che dimentichiamo Tutto il resto No working of the mind No memories No fantasies Just silence Nessun Nessuna attività mentale Nessun ricordo Memoria Nessuna fantasia Perfetto silenzio So nice to be in silence Perfect silence No noise whatsoever No inner noise whatsoever E' molto bello E' molto bello Entrare nel silenzio Nella pace profonda Senza nessun vociare Della mente Senza nessun disturbo So let's try to be in this state of peace In this state of peace Keep looking And out of love and devotion We keep also calling on him By repeating his holy names E con amore e devozione Continuiamo anche a invocarlo Continuando a ripetere i suoi santinomi Nothing else Just look for him Just call on him Nient'altro Semplicemente guardate Semplicemente chiamate Chiamatelo Guardate And be so absorbed So busy Doing this E cercate di essere così assorti Così impegnati A far questo Dimenticate Tutto Solo questo Just forget everything All it is To stay with you May God bless all of us May our Sadhguru Savva anche il Parajai Appishore The blessing of us Posso Dio benedirci Posso il nostro Posso il nostro Sadguru Savva anche il Parajai Benedirci Grazie 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 Grazie